ciao ragazzi in questo intervento provo a raccontarvi come si scrive un romanzo di formazione come lo si immagina come lo si inventa intanto lasciatemi dire una cosa io scrivo romanzi di formazione non a caso scrivo romanzi di formazione perché ho fatto l'educatore in una vita precedente nel senso che prima di dedicarmi a tempo pieno alla letteratura mi è capitato per dieci anni per più di dieci anni di occuparmi di disagio minorile ho lavorato come educatore di strada ho lavorato in una comunità alloggio per minori quindi visto che amavo scrivere a un certo punto mi sono reso conto che le storie dei miei ragazzi le storie dei ragazzi che io seguivo potevano in qualche modo nutrire la mia la mia letteratura potevano nutrire il mio immaginario potevano incendiarlo e da lì potevo partire per raccontare inventare storie ciò che davvero conta nelle storie di formazione più che il meccanicismo e il susseguirsi degli eventi e l'intensità dei personaggi che si costruiscono la rotondità di questi personaggi gli sguardi di questi personaggi io non credo che sarei mai stato in grado di mettere in scena dei preadolescenti o degli adolescenti così come mi sembra di riuscire a fare se non avessi fatto l'educatore per tanti anni perché ovviamente è come dire uno sguardo no un modo di ragionare sul mondo un modo di di pensare a se stessi e alla propria vita che uno deve conoscere non soltanto perché è stato ragazzo e tutti noi siamo stati siamo stati ragazzi ma anche perché ha continuato negli anni a frequentarmi una volta che uno ha un buon personaggio ha dei buoni personaggi un buon gruppo di personaggi a quel punto come si come si crea una una storia questo vale un po per tutte le storie ma il romanzo di formazione come vi dicevo anche prima è un romanzo che in qualche modo attraversa i generi un romanzo di fantascienza può essere un romanzo di formazione un romanzo fantasy può essere un romanzo di formazione un romanzo realistico può essere un romanzo di formazione e serve una drammaturgia e le drammaturgie sono utili a scrivere romanzi di formazione sono moltissime io ho provato a elencarne qualcuna così da suggerirvi eventualmente in caso voleste giocare con la con la scrittura dei come dire dei 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 piccoli universi narrativi in cui entrare il primo che mi viene in mente il più classico è quello che potremmo chiamare affrontare il mostro il protagonista deve affrontare un nemico un cattivo che minaccia lui stesso il suo villaggio la sua casa i suoi amici affrontare un mostro può innescare ovviamente un percorso di formazione harry potter mi viene in mente subito harry potter no per sette libri harry non fa altro che affrontare voldemort e affrontando voldemort ovviamente cresce cresce e nuove cose su di sé sui propri amici e sulla vita il genere come dire la l'universo narrativo fatto da quelle storie che potremmo così chiamare dalle stalle alle stelle immaginatevi il classico orfano alla dickens david copperfield è l'esempio più classico di questo tipo di storie voi prendete un personaggio che come dicevo prima deve essere un bel personaggio rotondo ricco sfaccettato originale e lo mettete già subito all'inizio di una situazione di grande povertà di grande esclusione la situazione di come dire che lo mette ai margini in qualche modo della società e per tutto il libro lui cercherà di emergere ok e c'è un film famosissimo che viene dato a natale tutti gli anni una poltrona per due che è un esempio classico di questo tipo di storia ma ripeto dickens in questo senso è un grande un grande maestro il viaggio il viaggio già di per sé è metafora di formazione quindi se voi prendete un personaggio e lo fate viaggiare lui non potrà che uscire da quell'esperienza di viaggio cambiato e modificato perché a mettersi in viaggio vuol dire ovviamente mettersi in gioco incontrare persone superare difficoltà scoprire posti nuovi usanze nuove pensate all'hobbit e bilbo baggins parte e alla fine quando ritorna è un un hobbit completamente diverso oppure pensate a alice nel paese delle meraviglie lei inciampa e costretta a fare un viaggio che non voleva fare però poi quando esce da quell'esperienza ovviamente è una persona diversa e la commedia e non tutti non tutti i romanzi di formazione devono per forza essere drammatici devono per forza avere scontri battaglie sofferenza casini di ogni tipo che ci può essere anche una una buona commedia ad esempio la classica commedia degli equivoci prendete di cui shakespeare in questo caso era grande grande maestro molto rumore per nulla è una sua commedia ed è una classica commedia degli equivoci voi prendete un gruppo di amici metteteli insieme in un campeggio fate sì che mentre uno è in tenda sente qualcosa che viene detto fuori dalla tenda lo fra in tende si scatenano una serie di equivoci e alla fine di quel putiferio relazionale ovviamente i personaggi nescono con una maggiore come al solito consapevolezza di sé e di quello che gli altri magari pensano di loro ultimo esempio la rinascita tantissimi romanzi mettono in scena tantissime storie mettono in scena un personaggio che a un certo punto della la sua vita in ciampa gli capita qualcosa sbatte la testa fa un'esperienza che improvvisamente cambia completamente il modo con cui vedeva la vita e pensava a se stesso e agli altri di nuovo il nostro grandissimo dickens pensate a racconto di natale scrooge viene portato in giro dai tre fantasmi la notte di natale vede tra le altre cose quello che capiterà in futuro e quello che sta capitando in quel natale particolare e quell'esperienza lo fa rinascere lo scrooge che uscirà da quell'esperienza è uno scrooge diverso ovviamente poi tutti questi come dire questi canoni sono intrecciabili certe storie sono viaggio ma sono anche rinascita ma sono anche affrontare un nemico affrontare un mostro eccetera 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 quindi la prima cosa che posso dirvi è questa partendo dalla mia esperienza personale se vi piace scrivere cominciate a scrivere cose che conoscete o cose che non conoscete abbastanza ma che vorreste conoscere di più io nel mio caso ovviamente fatto così è un po' ha funzionato la seconda cosa è che se volete scrivere romanzi di formazione dovete avere innanzitutto in testa dei bellissimi personaggi e poi mettere questi personaggi all'interno di un qualche tipo di drammaturgia che li obblighi a svelare delle parti non conosciute di sé